Oggi ultimo giorno di alla tavola della principessa Costanza, migliaia e migliaia di visitatori per questa spettacolare macchina del tempo che coinvolge tutta la comunità di Teggiano, capace di riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi. Una delle chicche più simpatiche e significative studiate dalla Prologo per celebrare le nozze d'argento della manifestazione è l'eccezionale presenza, nelle tre giornate della manifestazione, delle tre principesse che si sono succedute nel corso della sua storia nel tradizionale corteo storico. Ha iniziato Concetta Maria Cantelmi, poi Serena Delia ed oggi Cinzia Innelli, infine l'assalto al castello. Concetta Maria, Costanza, Principessa Costanza, la macchina del tempo funziona perché sembra che non sia passato nessun tempo. Ti ringrazio, sempre molto gentile. Il tempo è passato ma d'altra parte noi abbiamo cercato di fermarlo a quei 25 anni fa cercando di riproporre la stessa emozione di allora, speriamo vi sia arrivata. Tu sei stata emozionata stasera? Molto emozionata e molto anche tesa perché era un impegno importante e non ero certa di riuscire a reggere il passare degli anni. Invece sembra ieri? Col cuore sì.